Interviene Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico. La regionale 8 si farà. Entro il 2019 sarà pubblicato il bando di gara per la messa in opera di un'arteria importantissima che con una rete viaria di 53 chilometri collegherà la città di Taranto all'estrema periferia orientale della provincia ionica, passando per i comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria, Avetrana, attraverso anche le isole amministrative del comune capoluogo. E' questo l'esito dell'importante incontro di questa mattina a Taranto, presso la sede di Confcommercio, cui ho partecipato, prosegue Borracino, assieme al collega assessore regionale ai lavori pubblici Giannini, alla presenza di alcune associazioni di categoria e dei sindaci dei comuni orientali della provincia interessati dall'attraversamento dell'arteria. L'assessore Giannini ha fornito delle rassicurazioni circa la realizzazione dell'opera, che reputo strategica e alquanto importante per l'economia, soprattutto turistica, del territorio. Di comune accordo abbiamo deciso di aggiornare questa discussione presso la sede regionale dell'assessorato alle opere pubbliche, per meglio sviluppare gli aspetti più propriamente tecnici, alla presenza anche del direttore dell'agenzia Asset, che affiancherà la provincia di Taranto nella realizzazione e nella definizione della fase progettuale. Occorrerà chiarire alcune perplessità relative al progetto depositato, sollevate dal comitato via, per poi procedere speditamente con la realizzazione dell'opera. Ad oggi, conclude Borracino, sono a disposizione della regionale 8 ben 193 milioni di euro a beneficio di un territorio dalle straordinarie potenzialità che necessita di infrastrutture per il suo sviluppo economico.